ciao oggi video di degusta box con l'acqua è appena arrivata hanno due ore che è arrivata ma di solito non faccio mai video perché io mi scordo sempre e quindi lo apri subito oggi mi è venuto in mente e lo faccio allora ci sono qui è tutto il foglio dove c'è scritto cosa c'è allora ci sono questi tortiglia sal legume viso questo avevo visto che c'era il questo è il tabasco sito che su sapevo che c'era che galba veronica il latte scotti mucche bontà con il latte come il latte magento vegetale questo qua questo possiamo fare anche questo che cos'è no hanno dato le capsule le capsule per fare il caffè noi non abbiamo la macchinetta in quel video che avevo visto io c'era i barattolone e ma a noi ci è venuto le capsule non ce l'avevo qualcosa il tè al tè verde di estate questo va in frigo quest'altro è tortiglia no aspetta sì però ho sbagliato no sono tutte le gomme diverse queste lenticchie piselli queste lenticchie pizze e ceci questi fagioli e soia e da e da mamme ancora ceci queste voglio provare no questo natura vuole cruchi fiocchi d'avena con cioccolato fondente questi sono sempre pubblicità sulla santa maria qualcosa non dice qualche bonus questo tabasco poi c'è questo pane modato puntinelle questo qua una salsa mutti mamma hanno pensato anche che questa salsa pronta ciliegine di gusto fresco questo succo all'arancia è frutto della passione questa cosa finita questo l'avevo detto e le trattini di asso serato tax max sa da fa una serata tax max che la scatola è buota questa va per mamma su scatola e niente questo era tutto come si chiama tutti i video che abbiamo fatto mi raccomando se venga il batto questo video lasciando un like iscrivetevi al mio campo iscrivetevi al canale attivate la campanellina e commentate giù nell'info box e basta ci si vede al prossimo video non so quando però ci si vede ciao un bacio